Vecchio Amaro del Capo, allo spirito del campione, si aggiudica il podio al Brand Awards 2020 in ben quattro categorie. Primo posto per il quarto anno consecutivo nella categoria Alcolici e Birre, secondo nella classifica assoluta Top Brand su circa 100 prodotti nomination, secondo anche nelle categorie Retail e Consumatori. I successi ottenuti dall'Amaro più amato sono stati decretati sulla base di dati riferiti alle abitudini dei consumatori che hanno acquistato prodotti di largo consumo e con la loro fedeltà al Brand hanno permesso al Vecchio Amaro del Capo di raggiungere questi importanti risultati. La migliore performance Vecchio Amaro del Capo la ottiene come vincitore incontrastato nella sezione Alcolici e Birre, che guadagna per il quarto anno consecutivo. La vittoria è stata accompagnata dalla seguente motivazione e il prodotto iconico della distilleria Caffo, frutto di un'antica ricetta calabrese, poi rielaborata e migliorata dall'esperienza acquisita dalle quattro generazioni della famiglia Caffo. Il Vecchio Amaro del Capo è il licore di erbe di Calabria, dotato di principi attivi, di erbe benefiche, fiori, frutti e radici del territorio calabrese. L'amaro ha un gusto aromatico, adatto anche ai palati più delicati e, come tradizione vuole, va bevuto ghiacciato a meno 20 gradi, nei caratteristici bicchierini del Capo. Siamo orgogliosi dei riconoscimenti ottenuti, commenta Paolo Reisa, direttore commerciale di Gruppo Caffo 1915. La vittoria dimostra quanto i consumatori siano affezionati al nostro brand. Per Nuccio Caffo, amministratore delegato del gruppo, questo risultato è determinato da giurie di esperti e di consumatori e si concretizza in un successo di vendita raggiunto grazie alla forza della politica commerciale. La nostra distilleria lavora con abnegazione e serità da oltre un secolo, in modo da mantenere sempre la massima qualità di tutti i prodotti, senza mai deludere le aspettative di chi acquista un prodotto Caffo.